La vita ti ha fatto accumulare i tuoi debiti? La tua casa sta per essere messa all'asta o ci è già finita? Desideri svegliarti prima possibile da questo incubo per tornare a vivere spensierato? Help Home è una società di consulenza in esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali e propone un servizio di supporto e aiuto, avvalendosi di un team di avvocati e tributaristi specializzati che ti guideranno per risolvere davvero e definitivamente il problema del debito. In pratica, venderemo la tua casa senza farti pagare costi aggiuntivi e azzereremo il tuo debito. Con il saldo estralcio otterrai il documento rinuncia agli atti e non solo la tua casa non ti sarà tolta dall'asta immobiliare, ma non avrai più debiti con nessuno dei tuoi creditori. Inoltre, se le cose si faranno difficili, ti aiuteremo a beneficiare della legge antisuicidi per trovare un accordo con i creditori davanti al giudice tramite una sentenza di sopraindebitamento. Con queste procedure solo con noi, i costi del tribunale saranno di molto limitati rispetto alla vendita all'asta. La tua casa non sarà svenduta da un'asta e quindi non ti rimarrà alcun altro debito e non dovrai vivere l'incubo di altri pignoramenti su stipendio e altre proprietà. Potrai tornare a vivere la tua vita senza più debiti. Per poterti restituire la serenità che meriti, sappi che occorrerà del tempo, poiché dovremo vendere il tuo immobile e trattare con i creditori. Non attendere e contattaci subito!